Musica Associati olivicoltori ben ritrovati alla diciannovesima edizione del periodico. L'attività vegetativa nei nostri olivetti è di un allungamento delle infiorescenze. Vedrete che fra una quindicina di giorni avremo i nostri primi fiori, un po' in ritardo rispetto all'anno scorso. Ma le piante in questo momento, ben idratate dalle ultime piogge, stanno avendo una buona attività vegetativa. Si presentano lussureggianti e anche i terreni che sono stati idratati stanno fornendo agli olivi delle buone dotazioni di acqua, ma anche di fertilizzanti e si vede dal colore che è un bel colore intenso. Quello che preoccupa è l'occhio di pavone. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, perché le lunghe bagnature foliari creano sopra le foglie, ma anche e soprattutto la vegetazione legnosa, un film di umidità dove si sviluppano questi funghi che stanno creando una particolare filoptosi, ossia che cos'è? La caduta delle foglie. Pertanto è necessario intervenire, però in questo momento l'utilizzo del rame è sconsigliato. Perciò andiamo ad effettuare dei trattamenti con dei triasoli. Li abbiamo portati i nomi all'interno del nostro periodico che mi invito ad andare a leggerlo. Continuiamo con il monitoraggio della tignola dell'ulivo che ha scarsa presenza e non preoccupa anche perché questa prima generazione che va sui fiori non crea particolari danni alle nostre piante dell'ulivo. Abbiamo notato invece una presenza di cotonello, anche qui non preoccupiamoci perché ne abbiamo avuta una notevole quantità lo scorso anno e in questo 2021 si ripetono le stesse condizioni climatiche, umidità elevate e temperature mediamente fresche che favoriscono la sua presenza. Non è necessario effettuare alcun intervento fitosanitario. Da considerare che fra una quindicina di giorni, come abbiamo detto prima, inizieranno le fioriture e pertanto è necessario attuare un intervento con il boro. Se dovete effettuare il trattamento contro l'occhio di pavone o cicloconio unetevi anche il boro, circa 150-200 grammi etoletro. Tutte queste indicazioni le abbiamo riportate nel periodico che vi invito a leggere e adesso un buon risentirci alla settimana prossima.